Signora Jacobson, quali sono le nuove frontiere della sicurezza in auto? Sappiamo molto del suo lavoro di oggi, ma sappiamo anche che lei ha una visione molto avanzata. Sì, è un continuo sviluppo. La sicurezza sulle auto si è spostata nel corso degli anni dalla protezione di chi sta dentro l'auto a chi sta fuori dall'auto, ma oggi è molto più focalizzata sull'evitamento dell'incidente o sulla riduzione delle conseguenze che un incidente può avere. E' questo prima che l'incidente avvenga. Chi altri, eccetto i passeggeri, è importante nel suo lavoro? Dentro l'auto ci sono persone da proteggere, ma anche fuori dall'auto? Ovviamente ci preoccupiamo di chi sta dentro l'auto, ma anche di chi sta fuori. Quindi abbiamo realizzato un sistema di protezione che può riconoscere di evitare un pedone o un ciclista. E cerchiamo di proteggerli nel modo migliore possibile. Volvo è un po' diversa da altri costruttori sul tema della sicurezza. Qual è la ragione? Abbiamo nella nostra tradizione da molti anni il valore che chiamiamo sicurezza della vita reale, che significa che riusciamo a capire cosa succede in un incidente reale e basandoci su quello costruiamo una nuova auto. Questo vuol dire che non ci basiamo solo sulle leggi e sui regolamenti, ma piuttosto cerchiamo di capire le esigenze del traffico di tutti i giorni. Abbiamo quindi raccolto dati nostri e lo facciamo da più di 45 anni. E questo ci guida nel modo migliore per capire su cosa dobbiamo concentrarci nel futuro. Di recente Volvo è stata acquistata dalla cinese Gili. È cambiato qualcosa da quando la proprietà è passata a questo marchio cinese? Volvo Car è un'industria svedese a tutti gli effetti, anche se è di proprietà di una holding cinese. Lo sviluppo e la ricerca sono comunque basate in Svezia. Il fatto è che la Cina è un mercato enorme, un vero mondo per l'auto. Quindi avere un proprietario cinese è una cosa molto positiva. Ma abbiamo piena autonomia di lavoro. Decidiamo e ci prendiamo la responsabilità di quello che facciamo. Una delle ragioni per cui l'abbiamo voluta qui in Italia è il suo lavoro su un particolare soggetto, che è la mamma in gravidanza. Che cosa succederà in futuro per questo soggetto? Sono già successe molte cose. Per esempio, solo dieci anni fa, molte persone pensavano che indossare la cintura di sicurezza sarebbe stato molto dannoso per una mamma incinta. Questo non è vero. Tutte le future mamme dovrebbero indossare la cintura. Queste sono progettate per proteggere bene sia la mamma che il feto, proprio come gli airbag. Bisogna solo avere cura di indossarle in modo corretto. Abbiamo visto il modello matematico del manichino della mamma incinta. Avete in programma di realizzare anche un manichino reale o rimarrà un modello virtuale e sperimentale? Il modello matematico che abbiamo sviluppato circa 15 anni fa è stato in realtà seguito da un manichino fisico. Non lo abbiamo sviluppato ulteriormente, ma esiste un modello fisico di mamma incinta, anche se non è così dettagliato come quello realizzato con il computer. Quindi per il futuro prevedo che si andrà più a fondo con la prototipazione virtuale perché possiamo aggiungere più dettagli e più informazioni. Abbiamo visto di recente la nuova Volvo XC90. È l'auto più sicura del mondo oppure no? Di sicuro è la Volvo più sicura del mondo. Sono sicura di questo. Abbiamo fatto un enorme salto in avanti introducendo nuove tecnologie che raggiungono traguardi molto importanti, molto più ambiziosi di quelli di altre auto. Per esempio, abbiamo inserito un dispositivo di sicurezza che limita le conseguenze di un'uscita di strada, un tipo di incidente molto frequente e che può essere molto grave. E per quanto ne so, siamo i primi al mondo ad averlo inventato. E su quest'auto abbiamo un pacchetto anticollisione che evita l'auto che sta davanti, pedoni ciclisti e impedisce persino di scontrarsi con un'auto che ti viene in incontro. Quindi sì, è un'auto molto sicura e è standard. Quindi sì, è un'auto molto sicura. Il Superbollo, ormai ha dimostrato dai numeri, è stato un flop terrificante. A questo punto non sarebbe ora di toglierlo. Sì, noi anche nella legge di stabilità abbiamo cercato di abolire e di rimediare a degli errori del passato. I'm specialized in biomechanics and injury prevention. Just wanting to make a difference in the real world. Volvo is one of the best place to be.